Chieti è la costante minaccia dei grandi centri commerciali, sembra una piaga che non solo non trova soluzione, ma a quanto pare si aggrava con la liberalizzazione dei centri di media dimensione, proposta che mette ancora più a rischio la categoria dei piccoli esercenti. Esiste purtroppo una normativa nazionale, la famosa legge Bersani, con le liberalizzazioni, che ha permesso questo. Il Comune metterà in campo tutti gli strumenti per arrivare ad un'equa ripartizione di quelli che possono essere poi i benefici che riguardano sulla città. Su questo noi vogliamo lavorare e stiamo già lavorando. Chieti da sempre lamenta la presenza di tantissimi centri commerciali in un'area davvero piccola. La difficoltà del commercio dei piccoli esercenti adesso c'è un altro caso. In queste ultime settimane si sta avendo un incremento di quelle che sono le richieste di insediamento di media distribuzione. Io ritengo che sia un fattore economico scontato. Ricordiamoci l'effetto COOP che ebbe a San Giovanni Tiatino quando nacque la COOP, intorno alla COOP nacque il più grosso insediamento di grande distribuzione e media distribuzione in Italia. Perché un centro commerciale che attrae 8 milioni di visitatori l'anno, è chiaro che tutti pensano di captare la clientela su tutti i percorsi che conducono a questa grande distribuzione. Oggi la legge consente questo. Tra qualche mese, se non un anno, sarà peggio perché se liberalizzano le distribuzioni oltre i 2.500 metri quadri sarà veramente un problema perché Chieti presenta sul territorio industriale, sullo scalo specialmente, una dismissione totale di elementi ex-industriali che potrebbero trasformarsi in commerciali. Ciò che è successo è già avvenuto in altre zone.